In questo video mostreremo come si redige il documento di valutazione dei rischi, noto come DVR, con il software sicuro di Analyst Group. Basta fare nuovo DVR, denominarlo, salvarlo nell'apposita cartella del software, inserire i dati dell'impresa, cliccare su fine, attendere qualche minuto per il caricamento dei dati, andare in Selezione Archivio, selezionare lo schedario del DVR, Struttura del piano e selezionare i rischi connessi alle lavorazioni, trascinarle in Archivio Rischi, Poi, selezionare i rischi connessi alle attrezzature che si utilizzano, selezionare i rischi connessi alle sostanze e i rischi connessi alle opere provvisionali. Queste schede sono personalizzabili grazie a Word Processor integrato e una volta fatte le modifiche occorre salvarle. Dopodiché si compila il documento. Viene salvato in formato Word, in una cartella di riferimento, attendere qualche minuto e il documento è compilato. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.